e quindi ragazzi noi scelgiamo quindi ma che ca... ma che intrusiamo aspetta quello putto via no fai niente lascelo ah si eccolo qua al posto eccolo fatto si a posto pure io perfetto ok sono entrato hey what's up ragazzi vedi questo nuovo video oggi ragazzi finalmente siamo su minecraft pocket edition sono assieme a arctic sniper che è simone che si è gentilmente offerto sulla pagina facebook di fare il primo episodio con me spiegandomi un po' i minecraft perchè ragazzi io di minecraft non so assolutamente niente e quindi ragazzi andremo a fare oggi un gameplay spiegandomi un po' come si gioca allora la prima cosa da fare penso che la sai dobbiamo andare a prendere la legna quindi andiamo a sgobare come dei dei drogati a prendere legno ok ho preso quanto legno hai? ma anche tu laghi a volte oppure? ogni tanto si quando spacchiamo i blocchi assieme ogni tanto è normale ok posti io ho sette di legna anch'io perfetto aspetta andiamo un attimino nella pianura sei già perso dove sei? no sono dietro di te allora apriamo la finestra di crafting prendiamo i tre puntini bellissimi ok adesso prendi la crafting table e la piazzi qui a terra vale ora prendo la crafting table che cosa ci compare? tu penserai oh mio dio un macello non è niente di così complicato perchè queste sono tutte le cose quelle tipo oscurate sono oggetti che potremmo costruire però abbiamo solo manca la materiale tipo? si manca la materiale perfetto puoi premere su dove c'è scritto piccone e premiamo e c'è scritto uno per perfetto e abbiamo il nostro bene amato piccone perfetto adesso sta facendo notte quindi tutti i player meno esperti si barricherebbero come degli animali sotto terra ma noi non siamo player inesperti e quindi facciamo gli acab spacchiamo la terra no per ora non la spaccare tanto siamo qui vicino adesso ti faccio un scavo un pochettino a terra così poi aspetta sennò ti picchio così ecco lo sapevo si facciamo un po' a terra così ti puoi prendere la la pietra in modo da farci un equipaggiamento decente e prendi la pietra si io sto fuori e ti copro così anzi sto fuori sto qua davanti così se c'è gente vediamo non colpito ah sono sbagliato vero cosa madonna sta succedendo ok adesso mettiamo altro legno 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 allora ora ci vorrei parlare perché queste cose sono cose più tecniche dopo aver preso la legna e dopo aver provato a fare un equipaggiamento decente in pietra Minecraft ci pone un vivio possiamo decidere cosa fare o andare a esplorare il mondo senza una meta in giro e cercare un punto decente dove accamparci e farci il nostro resort la casa oppure come molti fan personalmente faccio anch'io converrebbe buttarsi proprio in miniera come dei minatori cileni senza cibo e affamati e a scavare come se non ci fosse un domani in cerca di materiali quindi ora sta a te decidere cosa fare facciamo resort che poi comunque giocherà single player quindi dovrà farla a casa no? sì quindi riprendi la crafting table ora visto che hai deciso di fare il resort chiamo entrambi i blocchi sì infatti ma tu adesso perché stai spaccando qua? perché sto allargando un attimo questo spiazzo ah ok ok stiamo a cominciando a costruire la nostra amatissima casetta ora io adesso vedi dove sono io sto allargando un attimo lo spiazzo appiazzando la terra perché non si butta via niente la terra che togliamo la ripiazziamo per allargare a sua volta lo spiazzo quindi cominciamo a piazzare legno attorno alla nostra sacra crafting table sempre la sedi perci è vero? sì sì quello perché è quello più facile da recapitare perfetto piazzala conviene che la piazzi da fuori che figo ah perché da fuori? ah perché così ho il spazio in più? ok eccolo guarda lì bella lì dobbiamo andare a prendere altra legna aspetta veramente non so se dobbiamo proprio andare perché tu da quello che ho capito ne hai quantità industriale eh sì vuoi che faccia la parte sopra no? un altro anello un'altra cosa tanto so che tu hai tanta legna perché tu hai i big wood esatto quindi adesso facciamo il pavimento e poi ci dedichiamo a finire il contorno a presto a presto a presto a presto a presto c'è tutta la cura quindi a presto qui possiamo usare quindi le mie cose le puoi usare tu eccetera? il problema è che io ho messo un sacco di cose mi ha salvato solo i bastoncini ah ok ok ragazzi allora per questo primo episodio finisce qui come vedete qui l'abete purtroppo è terminato poi lo finiremo anche se è stata una partita così giusto per giocare un pochino provare per il mio caso la prima volta minecraft pocket edition e quindi ragazzi noi ci vediamo qui ma che c***o aspetta quello punto mio no fai niente lascialo grazie quindi ragazzi per questo episodio finisce qui ringrazio ancora Simone grazie cioè prego a posto ragazzi la droga fa male io vi saluto Simone saluta anche tu e vi saluta pure Libby13 esatto e noi ci vediamo quindi ragazzi al prossimo video ciao ragazzi